Finalmente ragazzi è arrivata la notizia che tutti noi tifosi del Gubbio stavamo aspettando da giorni Alessandro Sandriani sarà l'allenatore del Gubbio anche per questa stagione Io sono contentissimo, non c'era scelta più giusta secondo me Anche perché l'ha dimostrato con i fatti nelle ultime partite Lui ha preso la squadra a 6 giornate dalla fine che eravamo in una condizione dire disastrosa e dire poco Ecco, io veramente sono felice di più Anche perché finalmente ora da lui come allenatore si potrà cominciare a costruire la squadra Sono già circolati i primi nomi, si parlano di due possibili ritorni, anzi tre Uno è Palermo, uno è Briganti, uno è Casoli Casoli è molto difficile, Palermo sembra abbastanza improbabile come cosa Anche Briganti, quindi i ragazzi cominciano già a circolare i primi nomi Partiamo dal presupposto che io farò il video del calcio mercato a parte Oggi è incentrato solamente sul rinnovo di Alessandro Sandriani Allora, io come ho detto prima sono molto contento Ma soprattutto per due cose La prima è stato capitano del Gubbio La seconda è innamorato del Gubbio E queste due cose è normale, ti daranno un qualcosa in più Per poter continuare ad allenare e dare quel pizzico in più Rispetto ad un allenatore che non conosce la piazza, che non conosce l'ambiente I primi mesi devi vedere com'è l'ambiente, devi imparare a conoscerlo, imparare a viverlo Lui già sa tutto L'ha vissuto praticamente qua una vita Ha giocato con noi una vita Capitano del Gubbio per anni e anni e anni Quindi già partiamo con una ottima, per dire ottima, base Siamo al primo di giugno Sandriani ha rinnovato Non è da tutti avere l'allenatore già i primi di giugno Si sono viste le prime notizie Auteria, Catanzaro Altri allenatori che sono stati esonerati Però io non volevo altri allenatori L'unico allenatore che io volevo sulla panchina è Alessandro Sandriani Ragazzi, per dirvi questo, ve l'ho detto C'erano i primi nomi Palermo, Briganti, Casoli Però Casoli è molto remota come possibilità Però comunque sia, dai giornali si legge anche il nome di Casoli Palermo, sembra che si sia iniziato una trattativa Quindi un giocatore di assoluto livello Sarebbero tre ritorni, anche quello di Marco Briganti Un giocatore di assoluto livello Palermo perché in mezzo al campo Non tutti avrebbero Palermo Poi con Marchi d'attacco Palermo a centro campo Direi che sarebbe iniziando a costruire un'importante squadra Però non voglio dire niente di questo ragazzi Ci sarà tempo per parlarne Questo video è incentrato solamente sul rinnovo di Alessandro Sandriani C'è solo un capitano C'è solo un allenatore Ovviamente come capitano c'è anche il grandissimo Ettore Marchi Quindi abbiamo due capitani In panchina e in campo E credetemi ragazzi, non è da tutti Ci vediamo a un prossimo video Ciao ragazzi